Il Termoli torna all'antico e torna anche al Parigio, 0-0 in casa contro il Fano. Un primo tempo dove il Termoli ha cercato di andare in gol, il Fano si è chiuso spesso e volentieri. Poi con l'espulsione di un giocatore del Fano, Allegretti, la musica è cambiata perché la squadra marchigiana si è abbassata tantissimo per difendersi. Dodicesimo la punizione disegnata qui da Corcione con la sfera che termina alta sulla traversa. Tra i giri di lancetti più tardi c'è questo colpo di testa in corsa da parte di Baldè. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo però il giocatore con la casacca numero 30 non trova lo specchio della porta. Diciottesimo a fondo pericoloso per i marchigiani che si fanno vedere al limite dell'area di rigore con un inserimento forte da parte di Zanni che va anche alla conclusione entrato in area ma Lombardo è strepitoso, si va a distendere per deviare la sfera in calcio d'angolo. Sugli sviluppi la testa in corsa da parte di Urbinati che mette in vetrina le sue doti. L'altezza con la sfera che termina alta sulla traversa. Ventunesimo il termolo è l'occasione buona, nasce un contropiede ficcante sulla corsia Mancina. Baldè si ritrova in area di rigore però poi in cespica su se stesso. E la sfera che viene calciata sull'esterno della rete. Finale del tempo quarantunesimo il lungo lancio in profondità con la sfera che viene allontanato. E' Allegretti che alza il piede, va a far fallo sul giocatore del termoli De Mars. Vede tutto il direttore di gara che lo aveva ammonito qualche minuto prima. Secondo giallo e rosso per il giocatore con la casacca numero due. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. Il termoli prova a mischiare le carte soprattutto in virtù dell'uomo in più. Qui la conclusione di Carnevale che anticipa il secondo tempo al quinto. Schema da calcio d'angolo con la sfera però che termina abbondantemente alta sulla traversa. Ventiquattresimo passa questo pallone in aria. Si gira bravissimo Drolet ma sulla sua traiettoria c'è ancora l'insuperabile portiere del termoli Lombardo. Ventinovesimo poco prima della mezz'ora. Il cross disegnato in profondità con Carnevale che cerca l'appuntamento con il gol. Con la sfera che però termina sul fondo. Trentiquattresimo il termoli immagina gioco e vuole il gol. Va giù. El Uozini in aria di rigore lascia proseguire il direttore di gara. Il termoli chiede il penalty. Minuto numero 46. Dragutinovic da poco in campo prova il mancino. Si accartoccia Bizzini sulla sfera e riesce a neutralizzarla in extra time in pieno recupero. questo tentativo da parte di Antezza. Il termoli qui ha chiesto il calcio di punizione per il direttore di gara. Non c'è tempo per far nulla più. Fischia il triplice fischio ed è il finale. Alla Gino Cannarsalo 0-0 fra il termoli e il Fano. Alla Gino Cannarsalo 0-0 fra il termolo e il termolo e il termolo e il termolo e il termolo.